Ciao a tutte e tutti! Come state? Spero bene! Io sono Ira e oggi faremo un nuovo viaggio insieme verso lo straordinario mondo dell'arte. Andremo a Vienna, in Austria, e conosceremo un nuovo artista. Il suo nome è Ander Wasser. Ander Wasser non fu solamente un pittore, ma anche un bravissimo architetto e uno straordinario grafico. Lui amava moltissimo la natura e l'arte e riuscì ad unire queste due grandi passioni. La natura fu la sua maggiore fonte di ispirazione. I suoi quadri vedono bellissimi panorami dove spuntano fiori, alberi, visi e ogni tanto qualche forma particolare. Dovete sapere che Ander Wasser prese il suo nome da una parola composta, che è Ander più Wasser, che vuol dire cento acque, perché amava tantissimo l'acqua. E anche nelle sue costruzioni architettoniche inseriva sempre dei giardini, degli alberi che fuoriuscivano dalle finestre o dalle terrazze. Dopo vedrete nelle foto le immagini di bellissime costruzioni realizzate all'interno della città di Vienna. Oggi è molto importante che diamo valore all'ambiente e che riusciamo a stare in armonia insieme alla natura e alle città. Tanto è vero che sappiamo benissimo ormai che i virus viaggiano soprattutto quando c'è più inquinamento. Ma siete pronti a fare anche voi un bellissimo quadro come faceva Ander Wasser? Ognuno di voi potrà realizzare un giardino o un orto sul proprio foglio e lasciare andare la fantasia e l'immaginazione. Allora, per fare il nostro quadro abbiamo bisogno di un foglio, se è ruvido ancora meglio, degli acquarelli e se non li avete potete utilizzare delle tempere con molta acqua, un rotolino di scotch grande e un rotolino di scotch piccolo o qualsiasi cosa che abbia forma di un cerchio. Poi la matita per realizzare il disegno, una gomma se avete bisogno di cancellare, dei cotton fioc che sono molto utili per colorare, dell'ovatta e dei pennelli. Naturalmente un piatto con dell'acqua e una bottiglietta d'acqua se ci dovesse servire. Siamo pronti a realizzare il disegno? Per prima cosa realizziamo i fiori come faceva Underbusser, utilizzando dei bellissimi cerchi. Allora, prendiamo uno scotch grande e realizziamo la sua forma passando la matita all'interno dello scotch. Poi ne prendiamo un altro di fiore ma questa volta passando fuori e non all'interno con la matita e lasciando la forma dello scotch più grande. E poi ne faremo un altro più piccolo. Decidete voi a quale altezza. Poi metteremo il gambo. Possiamo anche aggiungere dei fiorellini più piccoli prendendo uno scotch ancora più piccolo. Allora, andiamo intorno allo scotch. Aggiungiamo i gambi. Adesso realizziamo delle linee come se fossero delle linee di luce che illuminano i nostri fiori. Quindi partiamo dal centro del foglio e sviluppiamo delle linee. che dal centro si allargano verso l'esterno. Alla base possiamo realizzare delle piccole case, come faceva Underbusser, per integrare la natura alle case degli abitanti del paese o della città e poter convivere insieme all'ambiente. Adesso possiamo anche ridividere le linee facendo delle linee più sottili. Allora, Underbusser amava tantissimo mettere dei visi nascosti nelle sue opere. Quindi noi qui possiamo mettere due occhi, un naso, una bocca che si nascondono nel campo. Ok, allo stesso tempo possiamo divertirci con le linee morbide della natura che piacevano tanto al nostro grande artista. e ci divertiamo a tracciare delle linee intorno a un fiore, per esempio. Come se fossero dei raggi. Amava tantissimo le spirali, quindi, per esempio, al centro di questo fiore possiamo fare una spirale. Ne possiamo fare una più piccola qua. Mentre gli altri fiori possiamo fare i cerchi concentrici che ritroviamo negli alberi. qui possiamo anche rappresentare delle spirali con forma quadrata con cerchi realizzava anche delle specie di cipolle. Possiamo metterne una qua che sembrano o delle cipolle o delle gocce d'acqua. Adesso ci divertiamo a colorarlo con gli acquarelli. Per prima cosa prenderemo un pezzetto di ovatta e procediamo con il giallo per dare luminosità allo sfondo. Quindi faremo una riga gialla e una riga di un altro colore. Quindi inizieremo con questa useremo l'ovatta come se fosse un pennello. Adesso mettiamo un po' di giallo scuro nei fiori per fare la base del fiore. Adesso procediamo con i cotton fioc e ci divertiamo a dare colore ai fiori alle casette e al gambo. Quindi io prenderò un po' di arancione lo passerò qua intorno Se passate l'acqua sopra il colore potrete sfumarlo con gli altri colori. Possiamo usare anche i pennelli. Ci divertiamo a mettere il gambo che io a questo punto farei sul blu scuro Alla prossima Alla prossima allora ragazzi adesso sto ripassando i fiori con un colore più scuro a contrasto con il pennello quindi per esempio questo fiore passerò intorno un verde più scuro vi ricordo che per fare un cerchio possiamo girare il foglio così diventa tutto più semplice e possiamo andare sia in un verso che nell'altro una cosa importante dell'acquarello che se c'è la goccia con l'acqua la dobbiamo portare in giù verso il basso per completare l'opera utilizzeremo il nostro conton fioc a tampone e lasceremo tanti pallini colorati come se fossero dei semini i semini che danno origine a questi bellissimi fiori allora ragazzi questa è la nostra opera spero che vi sia piaciuta e che anche voi vi siate divertiti a realizzare un giardino di fiori o un vostro bellissimo orto vi auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana arrivederci ragazzi